tanti saluti tutti sono tafrasno angel 10 settembre 2021 questo è il foglio di oggi tanti saluti tutti sto tornando a casa 10 e mezza sera 11 di notte sto tornando a casa sto aspettando 42 per andare a casa mia via 326 42 tanti saluti tutti questo foglio di oggi 2 10 settembre 2021 tanti saluti tutti da tafrasno angel fermata 42 per tornare a casa mia via farini angolo via fabio pizzi angolo via tonale tanti saluti tutti